hanno poca esperienza con le gabbie fanno resistenze poi impareranno a entrare con più tranquillità si sta per andare agli ordini dello start partite prima parte di gara Stella del Deserto scende in corda dall'esterno Windbrek va in vantaggio su Stella del Deserto Desirade spietata a largo Lady Revenge Thinking About You muove Thinking About You la grigia e vale ai lati di Windbrek poi spietata Desirade resembling con all'esterno Lady Revenge Stella del Deserto superata da Zolushka che si trascina Mumai Rose in coda all'ontananza Windbrek all'esterno Thinking About You spietata e Desirade resembling e Lady Revenge tira via Windbrek Tario Varju Thinking About You in corda spietata all'esterno Desirade poi resembling Lady Revenge e Zolushka Windbrek affronta la prima parte addirittura in vantaggio sempre su Thinking About You e spietata Desirade ad esempio gli altri sono lontani capeggiati da Zolushka con Windbrek che sta allungando da Thinking About You spietata che è murata in corda poi Desirade poi resembling con Thinking About You che va all'attacco di Windbrek prova l'attacco in mezzo alla pista la grigia con Thinking About You che attacca a fondo Windbrek all'esterno spietata tre a lottare con Thinking About che è passata deve parare spietata all'esterno perché Windbrek è battuta poi Zolushka c'è lo scatto di spietata di nome e di fatto Spietata batte Thinking About You per la terza Zolushka precede Mubai Rose Scuderia Umberto i colori della scuderia Umberto che sono colori tutti i livornesi Livio e tutto il team spietata batte Thinking About You ancora positiva 6-8 terza Zolushka quarto Mubai Rose 6-8-10-4-9 e un ben tornato anche alla scuderia Umberto Livio tutto il team Lucia Lupinacci Sergino Urru sulla femmina che vince la Maiden premio Otello Benedetti è tutto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.